numero 4 il set include il nuovo e reader kindle paperwhite con luce regolabile integrata una custodia amazon in pelle e un caricabatteria amazon da 9 watt il kindle paperwhite è sottile leggero resistente all'acqua potrai leggere come sulla carta stampata e senza riflessi anche alla luce diretta del sole questo kindle paperwhite è disponibile in due versioni da 8 gigabit e da 32 per portare con te molti più libri ottima idea regalo il costo è di circa 189 euro numero 3 il kindle paperwhite 8 gigabit è sottile e leggero con uno schermo senza riflessi per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole resistente all'acqua per leggere e rilassarti in spiaggia in piscina o nella vasca da bagno kindle paperwhite è disponibile in due versioni da 8 gigabit e da 32 gigabit per portare con te molti più libri una singola ricarica dura settimane ha una luce regolabile integrata ampia selezione di ebook a prezzi contenuti il costo è di circa 129 euro numero 2 kindle oasis con tonalità della luce regolabile da bianco ad ambra resistente all'acqua per leggere anche nella vasca da bagno o in piscina 8 gigabit e wifi color grafite miglioramento dello schermo design sottile leggero ed ergonomico con appositi pulsanti volta pagina ti permette di leggere come sulla carta stampata e grazie alla tecnologia e inc più all'avanguardia puoi voltare pagina più rapidamente accesso immediato a milioni di libri il costo è di circa 249 euro numero 1 il kindle oasis ha uno schermo più grande e una più alta risoluzione per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi anche alla luce diretta del sole è il primo kindle resistente all'acqua design sottile leggero ed ergonomico con appositi pulsanti volta pagina e luce frontale a regolazione automatica per leggere ancor più comodamente per ore una singola ricarica dura settimane color grafite con 32 gigabit e connettività wifi il costo di questo prodotto è di circa 339 euro